Oh, oh, merda! Scendi, scendi! Ok! Cavolo, quella è Nadine! Oh, ora c'è davvero dentro fino al collo! Devo raggiungerla! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ho sentito che il C4 va d'accordo coi corazzati. Grazie a tutti. 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 Ho un regalino per quel corazzato. Grazie a tutti. Non puoi fermarti. Grazie a tutti.